Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico, io sono Issam e questa è la sesta parte della costruzione del mini quadricottero classe 250 per FPV a basso costo. Oggi vediamo come collegare la nostra ricevente al CC3D utilizzando i cavetti in dotazione con il nostro pacchetto. Ci sono tre tipi di cavetti come vedete qua e adesso vediamo il perché. Prima di vedere il perché volevo farvi vedere le tre possibilità o le quattro, anzi le quattro possibilità che abbiamo per collegare la nostra ricevente al CC3D a seconda del tipo di ricevente. Iniziamo a vedere questo tipo di collegamento di una ricevente PWM, come quella che utilizzo io della Valkyra. PWM sta per Pulse Width Modulation ed è un impulso modulato, quindi a seconda dell'intensità dell'impulso che viene trasmesso ad ogni canale singolo, il nostro servo o i nostri motori andranno a girare di più o di meno. PPM sta per Pulse Position Modulation, quindi viene trasmesso il tutto tramite un solo canale e in questo canale vengono trasmessi degli impulsi di intensità differente che capisce la nostra ricevente e gli smista in vari canali. Se siete interessati a vedere come avviene questo in pratica potrei fare un video a parte per spiegare questo meglio. Comunque la differenza tecnicamente è che qua dobbiamo collegare ogni canale singolarmente a un PIN separato, invece qua possiamo collegare tutti i canali con un solo cavo che va nella nostra ricevente. Lo stesso vale anche per il Futaba S-Bus o S-Bus, viene collegato anche lui a un tipo di PPM che viene collegato con un solo cavo, però vedremo che il collegamento alla ricevente Futaba è differente. Lo stesso vale per lo Spectrum Satellite, lo Spectrum Satellite è un satellite, praticamente è un'antenna, e viene collegata con una porta differente sempre con un cavetto, però qua vengono collegati 4 cavetti, invece qua vengono collegati 3 cavetti e qua 3 cavetti, perché 3 cavetti adesso vedremo. Iniziamo con il collegamento classico che è il PWM, come la ricevente che ho io. Vediamo adesso il diagramma. Il collegamento praticamente ai motori l'abbiamo già fatto, come vedete qua questo gira in senso anti-orario, questo dovrebbe girare in senso orario, questo anti-orario e questo orario, e ogni motore viene collegato a un PIN numerato, quindi questo 1, 2, 3, comunque questo diagramma è dell'Open Pilot, potete vederlo nel vostro programma Open Pilot, quando iniziamo a spiegare come funziona la programmazione del firmware tramite Open Pilot. Una cosa che dovete tenere in conto prima di iniziare a fare i collegamenti, è che questo board, o questo flight controller, è un open source, quindi viene prodotto da vari produttori, e questi cavetti vengono prodotti anche loro da vari produttori, quindi i colori non corrispondono, ma dovete contare i PIN, contarli e seguire la traccia evitando di guardare i colori, perché i colori non corrispondono o non corrispondono sempre. Ecco, i primi tre cavetti che sono la terra, il rosso, quello che dà la corrente a 5V alla nostra ricevente, e il terzo è il segnale del frattel, frattel significa il gas praticamente, e vanno nel canale frattel. In questa ricevente praticamente il segnale è il PIN all'interno, il negativo all'esterno e il positivo in mezzo. Quindi prendiamo questo cavetto e come vedete questi tre cavetti sono su un unico connettore e andiamo a collegarli sul canale frattel, frattel è il terzo sulla mia. Sulla mia ricevente vedete che c'è scritto ogni canale che cos'è, sulla vostra ricevente magari non c'è scritto, ma c'è scritto 1, 2, 3, canale 1, 2, 3 o 4, 5, e dovete andare a vedere sulle istruzioni a che cosa corrisponde ogni canale. Quindi nel terzo canale che è il frattel mio andrò a collegare questo cavetto, questo connettore servo. Adesso nel diagramma il roll, il roll sarebbe l'alettone o aileron, e nella mia ricevente praticamente è il secondo canale, quindi il terzo cavetto che devo prendere da qui. Ecco, mentre vi stavo spiegando questa cosa, ho scoperto che questi cavetti sono stati collegati male ai pin, come potete vedere, o spero che possiate vedere, andiamo avvicino un pochino di più, così riuscite a vedere meglio. Il cavetto bianco, al posto di essere collegato al terzo pin, qua c'è un cavetto blu, quindi questo non va assolutamente bene, e andremo a invertirle. Siccome qua è difficile staccare i pin e rimetterli, allora andrò a staccare il pin dal cavetto servo e aggiustare questa cosa. Stacco il cavetto bianco e stacco anche questo terzo cavetto, lo sostituisco, lo metterò al posto di quello bianco praticamente. Metterò quello bianco al posto di questo. Questa è la differenza tra l'acquistare qualcosa da un produttore che ha una qualità di controllo, controllo di qualità, e un produttore con un controllo di qualità che lascia desiderare. Ok, adesso ci siamo. Quindi i primi tre cavetti adesso corrispondono. Ecco, quindi ritorniamo al nostro collegamento e andiamo a collegare, come abbiamo detto prima, al terzo canale, che è il throttle o il gas, i primi tre cavetti. Il quarto cavetto qua è di colore giallo. come vedete qua nel diagramma va al roll, quindi al nostro canale alettone e quindi lo inseriamo qua. Il quinto cavetto, che come vedete è questo bianco, contiamo uno, due, tre, quattro, cinque, va al pitch, quindi questo va connesso nel primo canale, il mio, che è l'elevatore o il pitch. Adesso il cavetto successivo, dopo il pitch, sarebbe lo I-O. Lo I-O è la coda o il rudder. Uno, due, tre, e quattro, è il quarto canale mio. Ok. Ecco, adesso a questo punto rimangono solamente questi due cavetti che non abbiamo collegato, quello blu e quello giallo. Quello blu, che è il penultimo, come potete vedere qua, che è il penultimo, è il flight mode. Il flight mode, praticamente, dobbiamo andare a collegarlo a un canale della nostra ricevente che corrisponde a uno switch a tre posizioni, possibilmente, se la nostra radio lo permette, siano due posizioni, quindi avremo la possibilità di avere solamente due modi di volo. Nella mia radio ho uno switch comodo a tre posizioni che si trova qui ed è praticamente assegnato al canale AUX 1. Vado a vedere sulla mia ricevente qual è il canale AUX 1 e questo no, questo è l'AUX 1 sì, quindi salto il gear e lo metto nell'AUX 1. Ok, e questo fatto. Adesso, a questo punto, dovrei collegare quest'ultimo cavetto. Quest'ultimo cavetto, praticamente, è un cavetto molto utile per impostare diciamo i famosi PID, i famosi PID difficili da impostare o che sono un tabù praticamente e andrò a fare un video specifico, speciale, solamente per impostare i PID in modo avanzato e personalizzato per il proprio quadricottero. quest'ultimo cavetto dovrà essere collegato a un canale che corrisponde a una di queste cose per esempio questo questo qui o questo o anche questo quale scegliere questo, questo, questo o questo o questo qui si può scegliere uno qualsiasi questo dipende dalla vostra comodità praticamente se non volete lasciare lo stick durante il volo potete mettere a segnare questo canale o collegare al canale corrispondente a questa levetta o pomello non so come si chiama in alternativa potete scegliere anche uno di questi dipende poi dalla vostra radio io andrò a scegliere questo adesso vi dico il perché se vado a vedere nel mio monitor e questo è il canale numero 5 vedete il canale numero 5 questo è il canale numero 3 quindi l'AUX 3 se collego all'AUX 3 questo sarà quello che andrò a utilizzare per assegnare o per impostare i PID però questo come vedete è poco preciso rispetto a questo qui questo è molto molto preciso che è questo il 7 è molto preciso quindi io preferirei questo mollo lo stick e andrò a utilizzare questo per impostare il mio quadricottero perché lo trovo molto più preciso rispetto a uno di questi ok tanto il cc3d vi tiene l'elicottero in hovering veramente in una maniera cioè come se avesse un gps veramente molto molto buono come flight controller ecco l'unica cosa che non potete lasciare durante il volo è lo stick del gas perché l'altitudine praticamente dovete controllarla sempre non riuscite a mollare lo stick questo potete anche mollarlo per qualche secondo senza nessun problema ecco a questo punto il problema è che questa mia ricevente è una ricevente solamente a otto canali praticamente e come potete vedere questo è il canale numero 7 che qua non esiste non esiste il numero 7 arriva solamente fino al 4 ok allora io vorrei andare a metterlo nell'aux 2 e quindi dovrò dire alla radio che questo pomello qua che è l'aux 7 me lo metti per favore sull'aux 2 come lo faccio ognuno nella sua radio lo fa in una maniera differente in questa radio è molto semplice basta andare sulle impostazioni sul device output e vedo che questi qua sono praticamente i canali della mia ricevente sull'aux 7 è assegnato l'aux 7 knob l'aux 7 knob è questo quindi questo lo inibisco perché in realtà non c'è in questa mia ricevente non ci sono non c'è l'aux 7 praticamente sulla mia ricevente c'è un canale che è l'aux 2 o l'aux 3 e sono liberi io andrò a mettere sull'aux 3 che è questo che è libero andrò a mettere la mia aux 7 knob che è questo ed è attivo ok quindi adesso quando giro questo pomello lui darà gli ordini praticamente a questo cavetto e questo cavetto vado a inserirlo nell'aux 3 ok e così è pronta la nostra ricevente supponiamo che la nostra radio o la nostra ricevente è una ricevente che accetta il ppm pulse position modulation a questo punto il diagramma è differente il numero di cavetti è minore e però dobbiamo utilizzare sempre lo stesso cavetto che abbiamo visto prima e che si collega in questa porta andiamo a vedere il diagramma di collegamento come si collega alla nostra ricevente come potete notare da questo diagramma praticamente il collegamento avviene tramite solamente tre cavetti alla nostra porta ppm con un connettore servo il primo cavetto e la terra il secondo cavetto l'alimentazione sono i 5 volt la corrente e dobbiamo tagliare tutto il resto dei cavetti li stacchiamo e lasciamo solamente l'ultimo pin che va al nostro segnale della porta ppm simuliamo questa cosa qui praticamente i primi due cavetti sono questi qua qua sono tre cavetti in realtà e quindi dobbiamo staccare il terzo cavetto e al posto di questo cavetto inseriamo l'ultimo cavetto che è il giallo il giallo lo mettiamo qua che praticamente è l'ultimo tutto il resto questi qua li prendiamo li stacchiamo che non servono questo viene collegato alla nostra porta ppm e questo cavetto va collegato qui ovviamente non ci saranno tutti questi cavetti qua e solamente con tre cavetti ce la caviamo molto semplice mettiamo in caso invece che abbiamo una ricevente della Futaba S-Bus questa è una ricevente Futaba supponiamo che è S-Bus in realtà non è un S-Bus ma una ricevente classica normale con sei canali però solamente come simulazione il tutto si collega tramite un cavetto che è sempre in dotazione che è questo però questo ha quattro cavetti dobbiamo staccare tre cavetti perché scusate dobbiamo staccare un cavetto e lasciare solamente tre cavetti perché come vedete dal diagramma qua si collega la terra la corrente e l'ultimo pin quello che c'è in mezzo a questi viene staccato che sarebbe questi due si collegano praticamente la terra sempre in mezzo scusate la corrente sempre in mezzo la terra la mettiamo qua e abbiamo il cavetto blu che vedete qua questo viene staccato non lo utilizziamo e il cavetto del segnale ppm viene inserito qua il tutto viene inserito in questa porta che si chiama mainport e non non di qua quindi come potete vedere in questo diagramma quindi qua e non qua nel caso invece avessimo un satellite che non è una ricevente ma un satellite solamente della spectrum si collega direttamente con questo cavetto qui che abbiamo visto prima per la futaba che è questo e ha questi quattro cavetti che vanno in diciamo nella nella nel satellite sono quattro cavetti e non si collega alla mainport ma qua si collega praticamente a una porta che si chiama flexiport che vedete qua sul cc3d che è a sinistra o questa qui a questo punto colleghiamo il nostro input il cavetto input e dobbiamo posizionare la nostra ricevente che la metteremo qua per posizionare la nostra ricevente sul frame utilizzeremo questo bi adesivo che purtroppo non è in dotazione lo attacchiamo qua e mettiamo la nostra ricevente qua a questo punto abbiamo quasi finito però dobbiamo posizionare bene questi due qua perché qua ci sono i bottoni che decidono i canali radio questo servirà ovviamente quando voleremo con qualcun altro che utilizza lo stesso canale quindi dobbiamo cambiare canale perciò dobbiamo togliere di mezzo questo utilizzerò un bi adesivo per fissare la nostra osd alla nostra ricevente e lo utilizzerò piccolo per evitare di imprigionare il calore che emana il nostro la nostra trasmittente perché si scalda molto se mettiamo un bi adesivo grande imprigiona il calore evitando di dissiparlo e si brucia la nostra ricevente perciò un piccolo bi adesivo prima di attaccare questi due insieme fisserò la nostra trasmittente a questo stantuffo però prima di fissarlo utilizzerò un bi adesivo sempre per evitare di stringere tantissimo la diciamo la trasmittente allo stantuffo per evitare diciamo che si danneggi non stringerò tantissimo la fascetta uno per non danneggiare la trasmittente un'altra cosa molto importante spesso questi quadricotteri ricevono dei colpi e quindi se l'antenna riceve un colpo forte potrebbe di questo connettore perciò un po' di gioco glielo lascio così almeno non tutta la forza della botta va contro il connettore quindi un po' di gioco glielo lascio a questo punto posso fissare anche la nostra osd qua tranquillamente prima di fissare il piatto superiore sul nostro quadricottero metterò il supporto per la mobius camera nel suo posto utilizzando questi gommini anti vibrazioni purtroppo nel mio pacchetto mancavano questi gommini e io precedentemente avevo acquistato questi gommini però ne ho solamente tre quindi metterò solamente tre per adesso per introdurre i gommini nei buchi facilmente utilizzerò uno dei cavetti che avevo tagliato precedentemente lo inserisco qua ok è una cosa molto semplice per poterlo inserire mettete di una cosa Grazie a tutti. Ok, come potete osservare qua questi contatti sono nudi e quindi qualsiasi metallo che può andare sul power distribution board potrebbe causare un cortocircuito e quindi delle conseguenze non piacevoli. Perciò vi suggerisco o di metterci sopra qualcosa simile a questo che è il liquid tape che abbiamo già visto precedentemente, che abbiamo messo qua sulla nostra telecamera. In alternativa potete mettere uno strato sottile di colla a calda sopra. Io preferisco il liquid tape perché in caso volete toglierlo è molto facile da togliere. E quindi faccio questa cosa subito. Questo si poteva sicuramente fare prima. Sarebbe stato meglio farlo prima. Quindi se avete la possibilità di farlo prima, fatelo prima. All'ausilio di un fazzoletto di carta tolgo l'accesso di liquid tape. Quindi volevo farvi notare che questi slot per fissare la telecamera tramite queste linguettine sono leggermente grossi e sfrutteremo questo fatto qua a nostro vantaggio per poter inclinare la telecamera leggermente il più possibile verso sopra, verso su. Quindi iniziamo a fissare il nostro piatto superiore, stando attenti a far entrare bene le linguette. Iniziamo da dietro a fissarlo con le viti. Non stringiamo le viti moltissimo per due motivi. Uno perché lo facciamo dopo meglio, quando fissiamo la telecamera meglio. E in più ricordatevi che state stringendo contro dell'alluminio e questo alluminio potrebbe rovinarsi se stringiamo tantissimo. Quindi stringere è necessario e non esagerare. Qua spostiamo un po' il supporto per la Movies Camera per introdurre la vite. Comunque ragazzi è vero che siamo andati sul risparmio con questo frame però se avessimo avuto un power distribution board migliore di questo avremmo risparmiato tantissimo tempo e sarebbe casinato con tutti questi cavetti il nostro quadricottero. Ma questo non avrà effetto sul nostro volo comunque con un power distribution board o senza il volo e sempre non dipende da quello insomma. Allora stringo bene questi. Adesso spingo un po' in su la mia telecamera. Sfruttando diciamo questo gap che c'è. Ok e poi stringo il resto. Come potete notare c'è una leggera inclinazione della telecamera. Non è tanta però aiuta. Ok leggera. Allora il nostro cavetto USB per la telecamera per alimentare la Movies lo facciamo passare di qua. Ok. Così quando non lo vogliamo utilizzare lo spingiamo qui e così non dà fastidio e non può andare contro l'elica. A questo punto dobbiamo andare a fissare le antenne. Ricordatevi che la parte dell'antenna quella più importante è questa. Questa qui. Ok. Tutto il resto non è importante. Quindi in realtà potremmo anche fare solamente questo pezzo così farlo uscire. Potrei utilizzare queste fascette qua per fissarla. Adesso vedremo come. Però queste fascette sono molto molli quindi utilizzerò delle fascette un po' più grosse e più dure. In realtà potrei utilizzare tutta la logica. lunghezza dell'antenna fino a qui però io non lo faccio perché se utilizzando se salite molto in fretta o prendete una botta e le eliche girano ancora potrebbero andare le antenne contro l'elica. Perciò accorciandola un pochino è meglio. Allora questa parte qua allora tagliamo così. Questa parte qua la lasciamo senza termorestringente e il resto metteremo dentro un termorestringente. scaldo il termorestringente stando attento a non scaldarlo tantissimo. Se no fondo il mio, la mia fascetta. Quindi lo scaldo solamente è necessario per fissare l'antenna dentro. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allentare un pochino la mia fascetta con un taglierino e cambio la sua angolazione fino a quella desiderata. E così abbiamo quasi 90 gradi, quasi 90 gradi tra uno e l'altro. Come potete notare è abbastanza rigido, quindi difficilmente andrà contro l'elica. Ecco, ho utilizzato un po' di colla calda, l'ho messa sulla superficie posteriore di questo nastro LED e l'ho attaccato sopra così è più adeso e non si stacca dal frame. A questo punto vorrei anche ricordarvi una cosa perché l'antenna che avete potrebbe essere SMI o RP-SMI. Cosa vuol dire questo? Questo pin all'interno dell'antenna indica che questo è un RP-SMI maschio. Come fate a saperlo, io ho fatto una cosa mentale mia per poter ricordarmi qual è l'SMI, qual è l'RPSMI. Quando è maschio all'esterno e maschio all'interno, come vedete c'è il pin qua e qua è maschio anche, vuol dire che è un RP-SMI. Lo stesso vale anche per la femmina se è femmina all'esterno e femmina anche all'interno ed è RP-SMI. Quindi femmina, femmina, maschio, maschio e RP-SMI. Se invece, come potete notare qua, è un maschio all'esterno e femmina all'interno, è un SMI. Lo stesso vale anche per la femmina all'esterno, maschio all'interno. Quindi se sono invertiti maschio, femmina, è un SMI. Se sono femmina, femmina, maschio, maschio, RP-SMI. Quindi ricordatevi questo perché se sbagliate antenna, per esempio se mettete questa antenna qua, che questa è una RP-SMI, ha una SMI, non essendoci il pin dentro, la vostra, diciamo, i vostri occhiali o la vostra ricevente non riceverà nulla, perché non ha l'antenna montata sopra. Peggio ancora, se montate l'antenna sbagliata, quindi non c'è collegamento tra antenna e trasmittente, potete bruciare la trasmittente. Utilizziamo il nostro tester, come avevamo fatto la volta scorsa. Se c'è contatto suona. Vedete? Non suona, quindi va bene. Tutto ok. Volevo ricordarvi due cose. La prima è la direzione di questo SD deve essere così, perché dovremmo poter schiacciare questo bottone. La seconda cosa, tenetelo il più in alto possibile, perché dobbiamo passare con un cavo, qua, per il cavo USB, per programmare la CC3D. Visto che abbiamo messo delle luci davanti bianche, volevo mettere delle luci dietro rosse. È un tocco bello da aggiungere, e in più aumenta la visibilità del quadricottero quando si pilota in terza persona. Siccome ho questi LED tutti bianchi, praticamente per trasformarli in rossi, basta andare con un pennarello come questo, andare a colorarli, e vedrete che diventano rossi. Ovviamente non saranno di intensità molto rossa, come quelli se comprate originariamente rossi, però comunque sono rossi. Se vedete che va via il colore rosso, potete anche colorarlo, potete scegliere tutti i colori che volete, basta colorarli bene, e vedrete che saranno rossi. Questa praticamente è la batteria che arriva con questo quadricottero, visto che questo è 12V, possiamo direttamente inserirlo nel connettore senza problemi. Quindi questo è il rosso, lo connettiamo al rosso, qua, e questo, il nero, lo connettiamo all'ultimo. Ok, e come vedete, questi sono di colore bianco, e questi sono di colore rosso. Quindi dovrò salvare dei cavetti sopra, e a questo punto li prestagniamo. che colore non ero? No. Lo stesso vale per questa striscietta, anche questa va prestagnata. La punta è un po' grossa, però, per questo lavoretto, ma va bene lo stesso. Adesso scaldiamo un pochino, e facendo attenzione a non saldare, invertire i poli, ma saldare nel posto giusto. Quindi questo meno, e questo più. metto un pezzettino di termorestringente, e lo scaldo, così, da chiudere questa parte qua. Applicherò un po' di colla a caldo qua, per poter attaccare bene il nostro led, la nostra striscietta led, che altrimenti non si attaccherebbe. ecco, adesso che l'abbiamo incollata, facciamo, diciamo, questo lavoretto, per evitare l'elettromagnetismo. facciamo passare il cavetto, dove non tocca l'elica, e lo saldiamo al nostro board, rosso al rosso, e nero al nero. a questo punto dobbiamo attaccare il nostro velcro. ricordatevi che la parte, quella con i ganci, va attaccata al quadricottero, invece la parte, quella soffice, va attaccata alla batteria. Questo perché? Perché, se la batteria l'appoggiate da qualche parte, con questo addosso, si attacca, e ogni volta, diciamo, soffrite un sacco, perché si sporca tutta, di erba, di altro. Quindi la parte, fase in inglese, che praticamente questa parte qua, morbida, va messa sulla batteria, e abbiamo detto che questa, la mettiamo sul nostro quadricottero. Taglio un pezzettino, di questo, e attacco il resto, al mio quadricottero. Ecco, anche se non utilizzerò questa batteria, che è in dotazione, ma utilizzerò questo tipo di batteria qua, metterò lo stesso il mio velcro sopra. Dovete stare attenti, quando mettete il velcro, di togliere qualsiasi adesivo, perché se no, finite come questo, che mi si stacca, perché c'era sotto un adesivo della batteria. Quindi togliete l'adesivo, prima, che c'è sulla batteria, e poi dopo attaccate il vostro velcro. Una cosa importante, la batteria, mettete il velcro su tutta la superficie, perché non sapete, dipende da quale modello state utilizzando, non sapete la parte di ancoraggio, se è qua o qua o qua, magari mettete il velcro in mezzo, e si appoggia da questa parte di più o di meno, e quindi mettete il velcro più o meno su tutta la batteria, invece qua serve di meno. Ecco, a questo punto vorrei capire il baricentro del mio quadricottero, praticamente per poter capire dove esattamente posizionare di solito la batteria. metto questo cacciavite sotto e vedo come si comporta il mio quadricottero. Così, praticamente è indietro. Vediamo dove riesce a stare. Ecco, quindi più o meno il mio baricentro qua. Quindi se la batteria la devo posizionare, la devo posizionare così. perciò la posizionerò il più avanti possibile sempre. A questo punto possiamo anche provare il nostro questa fascia che ci hanno dato in dotazione e qui scopriamo che anche questa è una, diciamo, un controllo di qualità fantastico perché la nostra fascia è talmente lunga che anche forse con la batteria originale posso provare anche la batteria originale e vedere se riesce a fissarla ma la stessa cosa. Quindi è un pezzo che ci hanno dato ma è un pezzo inutile e a questo punto utilizzo il mio fedele e fantastico Scorpion. Le fascette Scorpion sono le migliori perché sono molto morbide rispetto a queste qui. Sono morbide, sono fatte e sono molto leggere e funzionano sempre. Quindi a questo punto andiamo di mettere la batteria qua il nostro velcro la chiudiamo e così siamo pronti alla programmazione del CC3D. se trovate utile questo video condividetelo con i vostri amici che potrebbe essere utile anche a loro e soprattutto se vi piace cliccate sul tasto mi piace e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti grazie a tutti e alla prossima puntata o alla prossima parte che sarà la programmazione del CC3D e poi il volo. iscriviti